Senti, tra le ultime canzoni così che vanno maggiormente... Le ultime canzoni sinceramente mi ha fatto venire in mente il nostro amico Mariano dei Pandemonium, mi ha fatto venire in mente i cantanti che c'erano gli anni 70-80, no? C'erano i gruppi musicali che noi non chiamavamo gruppi musicali, come li chiamavamo prima se ti ricordi? Complessi! Bravo, complessi, vero? Complessi, che poi non si è capito, poi io l'ho capito dopo, perché si chiamavano come... Poi te lo spiego dopo, c'è stato per esempio il complesso, ascoltando in macchina una canzone, una canzone veramente cretina, i nuovi angeli, che poi dico, ma i vecchi ci esistevano, no? Solo i nuovi angeli, e poi dice, donna felicità, non ha l'amore, donna felicità, si sente sola, come la chiama la canzone? Donna felicità, non tiene niente, questo non tiene niente, però per parlare, per la rendere felice, faccio i ragazzi, l'accompagneremo noi, ragazzi, a cercare funghi e viole, sei mai stato depresso tu? È vero, dai, no? La prima cosa, regalano i viole, e tu già te le pigli, poi dopo arriva pure i funghi e sei a posto. Assurdo! Un altro gruppo questo qua, andiamo vicino a Mariano, possiamo andare vicino a Mariano, perché io mi ricordo sicuramente, Mariano, perché non mi accenni, è bravo, perché io ho un microfono attacco, quella là che faceva il giardino dei semplici, sulla spiaggia si allungavano le ombre, guardando l'uva, mi dicesti, è già settembre, tu dici, tu sei mai stato sulla spiaggia? L'uva l'hai mai vista? No! Dove lasciate su un po' di spiaggia? Assurdo! Un altro che faceva, Liu, Ah, vai! Liu, Liu, si stendeva su di noi, ma con gli occhi guardava te, e con la mano cercava me, non si capiva più. Arrivavano quelli là, la canzone, poi, mi piaceva la Formula 3, la Formula 3, la canzone base, la Formula 3, è quella là, eppur mi so scordato, è quella là, sì, va mal'accordo? Eppur mi so scordato di te, come ho fatto, non so, una ragione vera non c'è, lei era bella, però, appena facevo tuffo, non si capiva più niente, perché facevo, un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più, non piangere salame, dai capelli verterame, secondo me, o tuffo, lei ha fatto un po' di scoglie, perché non aveva capito, disperazione nasce da, disperazione nasce dalla distrazione, nasce dalla distrazione, che? Voi capite perché si chiamavano complessi, ecco sì, e poi c'estavano i cugini di campagna, andava a piedi nudi per la strada, una zingara, un corpo di chi ha detto troppi sì, non so, loro avevano copiato un po' i biggis, con quella cosa, che faccio le tre ore, se fa un certo punto si ricorda, grazie Maria, come si ricordava un secondo là, perché si ricordava, arrivava un terzo, un gruppo internazionale, una canzone internazionale, stavano là, che era così dice la canzone, spiega cosa vuol dire, stavano là, adesso invece stanno, anzi, loro viaggiano tanto, Roma, Napoli, Sfilate questo, non si ricorda niente, sai perché mi ha chiamato Franco? Hai distratto questo, metterci la panza, non si ricorda più niente, sta andando proprio nel pallone, ma loro viaggiano infatti, per fare tante, tante sfilate, viaggiano tanti chilometri, che pezza che ci abbiamo messo,